Vibonese stanno scendendo in campo su un campo appesantito dalla pioggia ma anche dalla partita anticipata della Serie D del San Biasa ieri con il Licata. Il campo è molto appesantito, la novità purtroppo è che poche ore fa è deceduto il suocero del tecnico della Vigor Lamezia e il mister Costantino non sarà in panchina. Noi riporgiamo le condoglianze al mister Costantino da questa postazione e tutti i cuori bianco-verdi sono vicini alla famiglia di mister Costantino. L'arbitro ha fischiato il saluto al pubblico e adesso si avvia il sorteggio. Vigor Lamezia domenica ha riposato a Isola dell'Iri c'era tanta neve come purtroppo ancora sta durando questa perturbazione. De Luca in campo, fra poco daremo le formazioni, si parlava sui giornali di un possibile infortunio ancora muscolare. Eccoli qua, tutti insieme a un grido di darsi forza a combattere in campo. Vigor Lamezia.